È una coalizione appunto che è nata già dal 2017, che si è strutturata, consolidata, abbiamo aggiunto mattone dopo mattone per arrivare a questa candidatura che nasce nel centro-destra e quindi con un progetto politico come base allargato a movimenti civici dove cittadini comuni hanno deciso di sposare questo progetto che si pone l'obiettivo ambizioso di andare ad amministrare Ortona. Come già detto anche in precedenti occasioni, noi abbiamo in mente un piano di interventi sulle contrade. Ortona oggi è una città dove si sono accentuate le disuguaglianze e la distanza tra periferia e centro sembra incolmabile. Abbiamo addirittura delle zone della nostra città totalmente sprovviste di illuminazione, mancano marciapiedi, manca il completamento della rete metanifera, l'allaccio alla rete fognaria. Ortona quindi ha bisogno di un piano di interventi serio per le contrade. Possiamo farlo utilizzando le risorse presenti all'interno del PNRR, ad esempio. Ci sono bandi come il recupero dei borghi a cui Ortona sta incredibilmente mancando. Pertanto noi abbiamo in mente di modificare da subito il piano triennale delle opere pubbliche e intervenire con urgenza su tutte le contrade. Ortona, lo voglio ricordare, è soprattutto contrade perché abbiamo oltre 50 tra frazioni, ville e contrade che rendono il nostro territorio, il nostro comune, il secondo per estensione territoriale dopo a Tessa nella provincia di Chieti.